Il Krav Maga a me piace, mi piace molto, è forse la miglior chiave di lettura che ho mai trovato in più di 30 anni di pratica. Mi piace inoltre la KMG, mi piace la filosofia che ha nell'allenamento e le persone che ci lavorano. Potrebbe essere anche che sarebbe lo stesso in altre federazioni, e voglio dire, potrei dire lo stesso di mia moglie, magari mi potrei trovare bene anche con altre donne, ma amo mia moglie e me la tengo ben stretta. Sì, lei è dietro la camera e mi sta osservando, controlla che tutto vada bene. Posso continuare cara? Ad ogni modo te lo dico molto sinceramente, per quanto il Krav Maga mi piaccia non farei tanta strada per andare ad allenarmi. Ci sono andato ormai più di 10 volte e ogni volta il viaggio è molto costoso, devo prendere molto tempo dal lavoro, e quindi perché? Beh, per me è esattamente come una vacanza, ma una di quelle vacanze che piacciono a me, cioè una vacanza in cui stacco, mi rilasso, ma mi alleno anche, faccio nuove esperienze, conosco persone nuove, in particolare in Israele si ha il grande vantaggio di potersi allenare con persone che vengono da tutto il mondo e in cui ci sono livelli altissimi di pratica, per cui è direi letteralmente un'esperienza unica, qualcosa che non trovo da nessun'altra parte. In più Israele è un bel paese da visitare, certo io sono di parte, nel senso per me Israele è molto simile alla Sardegna per quanto riguarda le spiagge, e quindi mi sento a casa. Inoltre i posti classici da visitare non sono classici per modo di dire, il tour che ho fatto a me è rimasto molto impresso, in particolare Gerusalemme, la classica città da vedere almeno una volta nella vita. Per tanti praticanti di Krav Maga è un vero e proprio sogno andare ad allenarsi in Israele e forse questo è in assoluto il momento migliore, perché? In tanti anni ho potuto controllare e verificare quella che è l'organizzazione KMG e ogni volta è ad altissimo livello, ma quest'anno hanno fatto qualcosa in più. Quest'anno hanno organizzato tutto all'interno di un resort di alto livello e sono compresi i pasti, con un bel vantaggio dal punto di vista economico, per non parlare poi il risparmio di tempo negli spostamenti. Ah, tra l'altro spostarsi in Israele non è difficile, ma visto che quest'anno c'è anche il bus che ti porta da aeroporto al resort e andato e ritorno, direi che insomma è ancora meglio. A fine video e in descrizione trovi alcuni elementi con cui farti due calcoli e diversi link utili. Io ho deciso già di prenotarmi questa vacanza e relax e quest'anno vado anche con mia moglie. È stato il nostro regalo di Natale. Sì, è ancora dietro la telecamera e sta controllando che tutto vada bene. Ciao, cara!